Dopo il covid tornano le proteste per il lavoro a Napoli, manifestazione stamane all'esterno di Palazzo San Giacomo del Movimento Coordinamento Bross. Circa 200 persone hanno innalzato cori verso il sindaco e l'amministrazione, Rea a loro dire, di non aver supportato i precari prima ma soprattutto dopo il lockdown. La manifestazione, durata gran parte della mattinata, segue quella del 3 luglio quando gli aderenti al coordinamento occuparono simbolicamente il Duomo di Napoli per poi abbandonare la manifestazione. Sul posto le forze dell'ordine e la polizia che ha vigilato sul sit-in.